Vezio! Comandi, signor direttore! Ascolta qua, il capitano Maffei dei Carabinieri vorrebbe dare un'occhiata alla donazione Faizan fatta nel 1887. Ti sarà capitata fra le mani? Faizan? Veramente mi non mi ricordo. Eppure è registrata nel quarto lotto. Te ne occupi tu, no? Mi non so cosa dirghe. Quassù c'è una gran confusione. Io non capisco. Lasci perdere, direttore. Elena, non sforzi la memoria. Vedi che piuttosto hai ritrovato nella portineria dell'albergo quella cartella con i disegni? Quale è la cartella? Quella per me, Samantha. E già, lei doveva tenerci molto per come si è arrabbiato col portiere di notte. Venezio, sei impazzito? Fermati! Blocca l'uscita! Blocca l'uscita! Blocca l'uscita! Aiuto! Basta, la metti lassù! No, io ti mollo. E io so che non mi muoia e vuol che parlo, ma a me non so niente. Brutto bastardo, io ti lascio andare giù. E va bene, parlo. Il mio compito è solo quello di consegnare la merce alla foresta che vuole. Consegnarla a chi? Alla foresta che vuole, è forestiera. E così è una hostess. E così è che mi dice cosa che hai da prendere in magazzino. E per chi lavora? Non so niente.